Allora da bordo campo panchina di Respectus Sandra, allora oggi nella veste di mister Da giocatore a mister, fra un po' faccio il panchina non mi gioco più quando le partite da fuori No, 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 hai ancora da dare al calcio quindi Non vale che me lo dici te sei l'unico sei No, no, ma è così, è così, vai tranquillo, se lo dico io insomma un po' di esperienza ce l'ho Senti, allora la squadra si sta comportando abbastanza bene Qualche errore ancora da migliorare Siamo giovani, siamo, siamo giovani, dai si migliorerà piano piano Ora si va a prendere Real Tunisia la prossima partita e così si mette la puntata apposta alla classifica Eh questo insomma, questo per dare una sistemata alla classifica No, stiamo parlando del calcio a otto dove, vabbè, Real Tunisia in calcio a otto non c'è C'è sia Maghreb, quella che ha giocato prima, ma c'è anche Nusul Cartage Ah comunque sono tutte belle squadre, devo essere sincero Sì, ti piace insomma il campionato alla fine Infatti sono talmente tirate che io mi faccio male No, vabbè, insomma, avrai per una settimana o due e poi ti riprendi Sì, sì, a regola fai tutto Comunque la tua presenza qui come mister, insomma, ha dato alla squadra Ha dato alla squadra, insomma, almeno un inquadramento Sì, sì Bene, allora ti lasciamo seguire la partita Ti lasciamo seguire la partita e grazie per la continuazione Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì